150 gabbie, ognuna ospita una coppia di canarini, il che significa almeno 300 esemplari. Questo è il regno di Pietro Peluso. La sua casa ospita canarini di tutti i colori, ognuno con una caratteristica diversa. Sono tanti i premi e trofei collezionati negli anni, ma la più grande vittoria è arrivata da poco. Si chiama Benacus, in omaggio al nostro lago, la nuova razza di canarino. Una volta andato in pensione, Peluso ha avuto tutto il tempo per dedicarsi alla sua passione e così nel 2009 ha iniziato a sperimentare l'accoppiamento tra un maschio gibboso e una femmina bossu del Belgio. Ci sono voluti otto anni per arrivare all'esemplare perfetto, ma ora il Benacus è stato riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Ornicoltori italiani. Grande soddisfazione da parte di Peluso per questo bel risultato con la nuova razza Benacus, ammirata dagli appassionati ornitologi e ora diffusa in tutta Italia.